L'Associazione Nazionale Costruttori e Vili di Sicilia boccia la legge di stabilità della regione. Soldi solo per la spesa assistenziale e niente allo sviluppo. Gero Miciche. I costruttori bocciano la finanziaria appena approvata dalla Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale e adesso prossima all'esame dell'Aula. Nella legge di stabilità, secondo Lance e l'Associazione dei Costruttori e Vili, il governo Crocetta e la maggioranza dell'Assemblea hanno impegnato quasi tutte le risorse per garantire un sussidio assistenziale che non è mai legato alla produttività al bacino elettorale di decine di migliaia di precari. Non hanno stanziato nulla per nuovi investimenti produttivi e per le infrastrutture e per l'avvio dei cantieri già finanziati da anni. Lance denuncia inoltre che mancano anche gli interventi per riformare le stazioni appaltanti, le cui commissioni aggiudicatrici, inoltre il 50% dei casi, impiegano in media più di un anno per aggiudicare le gare e per sbloccare i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni con le imprese. In base ai dati dell'Osservatorio Opere Pubbliche e della stessa ANCE, in Sicilia il mercato degli appalti continua a crollare quasi dell'80% e le imprese edili da anni avanzano a circa 500 milioni di euro per lavori eseguiti per conto delle pubbliche amministrazioni. Come ha confermato l'Istat, nell'ambito dei debiti degli enti pubblici verso le imprese, la Sicilia è al quarto posto tra le regioni con i maggiori ritardi di pagamento. E si tratta di 117 giorni di media, con punte fino ai mille giorni. Infatti in Italia, fra i 300 enti pubblici virtuosi che pagano più fatture e rispettano i 30 giorni della direttiva europea, ci sono solo 5 amministrazioni siciliane sulla piattaforma del Ministero dell'Economia. La conseguenza di tale atteggiamento nei confronti di chi lavora, commenta Santo Cutrone, presidente di ANCE Sicilia, è che nel 2015 un'impresa edile su quattro ha chiuso i battenti e le altre hanno ridotto il personale e hanno cominciato il 2016 avendo già esaurito ogni possibilità di ulteriore anticipazione bancaria. Se la finanziaria regionale, aggiunge, non interverrà con risorse e procedure coercitive nei confronti degli assessorati regionali e degli enti locali per sbloccare gli investimenti e i pagamenti, nel corso dell'anno assisteremo a un'ecatombe nel settore delle costruzioni.